buongiorno e ben ritrovati in calcelleria alexander oggi andremo a risuolare questo scarpone mendel andremo a cambiare il fondo e metteremo sempre una suola con l'attacco ramponabile via con il procedimento a presto a presto a presto qui con lo scarpone mendel risuolato con la nuova suola vibran con l'attacco ramponabile in punta e anche sul tacco ecco qua il fondo nuovo pronti per nuove avventure in montagna se il video vi è piaciuto like e condividi al prossimo video